intanto diciamo preciso che questo trailer l'ho inserito e aprito praticamente ad ogni report quindi poi non so se li farò sempre ogni giorno vedremo poi forse per un fatto di tempo lo dice comunque credo più domani dirò qualche altra cosa diciamo sulla appunto quest'anno di weather report in descrizione da oggi in poi ormai i weather report non saranno più come la prima stagione perché perché ormai sapete benissimo tutti gli oggetti le cose insomma la prima stagione che in sostanza sono le stesse inquadrate nella sigla e quindi io non le insomma menzionerò più nulla di tutto questo farò semplicemente un breve report di un minuto massimo un minuto e mezzo circa proprio proprio due minuti tanto anche chi non fosse scritto non sapesse di questo può vedere tutti gli oggetti menzionati la prima stagione nei report appunto precedenti appunto sì che sono sempre visibili in tutti i report come sapete eccetera quindi poi altra novità forse non farò più anzi sono quasi sicuro non farò più i video tools ma scriverò poi in descrizione anche per chi è interessato comunque va a leggere forse anche meglio così invece di fare video che mi fanno perdere molto più tempo sì in descrizione scriverò direttamente i miei pensieri del giorno che se vi rendete conto non so ma fare un video aggiuntivo pure su quello e anche col canale tastiera diventa ancora più complicato certo ce l'ho fatta praticamente per sei mesi credo da gennaio fino ad adesso ma ora diciamo non ce la faccio più prima in realtà i video pensieri facevo stesso anche nel report molto prima anche prima di gennaio ma non ce la faccio più diciamo è molto complicato e quindi preferisco fare così quindi queste sono le novità e quindi dico realtà dirò solo così nel report che cosa stavo pensando un po come fa mister linge sui report e poi dopo di che approfondisco descrizione quindi tu